Ed eccoci di nuovo, mi avete già conosciuto nella prima parte della trasmissione, sono Vivian Pior, accanto a me ho Rolando Panerai, si chiama Rolando Panerai, credo che per molti che sono con noi collegati in questo momento sia un'esperienza straordinaria perché come me saranno cresciuti con i dischi di Rolando Panerai che sono più di 127 registrazioni integrali di opere, è un grande record, ha cantato più di 150 titoli in teatro, è ancora un cantante attivissimo. In che anno hai debutato in questo teatro? In questo teatro no. Ma in quello che c'era prima, quello con i pantagane. Era proprio alla fine di questo teatro che c'erano, vigeva il passaggio dei topi, delle talpe grosse così perché il teatro era distrutto e stavano per ricostruirlo come l'hanno costruito, come è costruito ora. In pratica credo che fosse il 1951, con Simon Bocca Negra. Non c'ero ma insomma, così dicono gli anali dell'opera. Sei la storica di questo teatro, di questo rigoletto, di questo avvenimento. Quindi è un grande onore per noi essere con Rolando in questa produzione. Tu ti chiami un attore statico, no? Sì perché noi siamo un po' in contrasto, no? Perché anche questa qui è una regista, è fatto la regista in tanti teatri. Perché il movimento in se stesso conta, secondo me, non conta. L'importante per la recitazione, secondo me, sta qui. Tu devi dire buonasera. E se lo dici a sfotto, dici buonasera. Se lo dici reverente, dici buonasera. Se lo dici, non so, al parroco, dici buonasera. Quindi non è che tu debba fare gli inchini, muovi le braccia, è tutto sta qui. Come dici la frase e come il pubblico la recepisce, secondo me. È chiaro che ci vogliono anche i movimenti, ma per questo abbiamo, per esempio, delle belle coreografie. Ci sono i ballerini che, come nel caso di Rigoletto, voi avete visto le nozze fra psiche e amore, con tutti i fauni che c'erano, l'amorino che c'era laggiù, le danzatrici che lì c'erano. E diventa una pantomima e quindi è necessario che ci sia del movimento. Ma un cantante, un monologo, essere e non essere, hai mai visto Amleto fare degli sgambetti oppure saltellare di qua e di là? Sta lì, sta un quarto d'ora, dice quello che deve dire, fermo, se è stato interessante perché ha espresso con la mente, attraverso la parola, va bellissimo. Non occorre che faccia dei gesti, questo per dire che tu mi prendi sempre in giro perché dici che io sono un regista che ama recitare staticamente. Però è una cosa bellissima, perché penso che troviamo tutti che quello che risulta è l'interiorità della frase, che tu obblighi il cantante a pensare molto alla sensazione che prova il personaggio che sta recitando. È chiaro, scusa, se per esempio, se tu guardi Rigoletto, Gilda dice, ah queste sono le frasi tenere che io ho sempre sognato di ascoltare. Dopo due battute dice, queste sono le frasi tendere che io ho sempre sognato di ascoltare. Quindi voglio dire, se le dice con una certa intenzione, la gente la capisce, se no, non la capisce. Ecco, allora passiamo un momento a Regina Schrecker che è stata parte di questa grande squadra insieme a Enrico Musnich, insieme a Rolando. Ecco, grande stilista, la gente immagina un mondo molto patinata, però com'è stato in realtà la ricerca di tessuti per questa produzione? Hanno detto nel Tireno, pagina intera nel Tireno, che diceva, Regina fai costumi con i stracci. Sì, in questo caso può anche essere, sono una stilista di moda, quindi stracci non è proprio, li chiamiamo stracci, anche vestiti naturalmente, ma li chiamiamo così perché ci piace chiamarli. Invece questo caso è veramente fatto con stracci? Sì, abbiamo cercato tessuti negli stock. Sì, molto di moda, lo stesso, però, praticamente, degli stock specializzati che è poi anche qualche ditta importante, no? Qualche ditta importante nel pratese, nell'empolese. E nei tessuti forse molto aveniristici anche, no? Molti spalmati, molti materiali plastici. Il pubblico vede questo cipudio di Ferrero e Rocher, di queste donne Ferrero e Rocher che si muovono su decenni. Forse immaginano che sono vestiti di broccati ricchi. Può darsi. Può darsi. Vuoi dire in che cosa sono realmente vestiti? Sono degli spalmati che hanno veramente un costo ridicolo. Abbiamo cercato tanto, però, abbiamo fatto tanti chilometri, ore e ore e giorni a cercarli. Nel freddo, sotto la neve. Perché è di stock senso riscaldimento. Esatto, esatto. Però, alla fine, credo che ci siamo riusciti a dare questa impressione di lusso, di opulenza, anche con delle cose che costano veramente poco. Sì, sì. Qui abbiamo un esemplare, un magnifico esemplare, che poi penso che lo dobbiamo anche inquadrare, perché abbiamo con noi Monterrone e lo diamo lo scambio, no? Un attimino, vediamo, inquadriramo Monterrone, costruì della maledizione, no? Lui ha maledetto il povero Rioletto, il Duca, no? Sì, adoro questo costume. Ecco, Fabrizio, fate vedere un pochino, no? Perché è fatto... C'è questo soprabito, che bello, faccio un defile, è stupendo. Io preferivo quella... Questo corpetto dorato, mi piace da impazzire. Sì, si è fatto di un pelle stampato, no? Sì, è bellissimo. Stile indiano, no? Come stampa. Sì. E tu sei uscito l'anno scorso dell'Opera Ensemble. Sono uscito dall'Opera Studio, che è stata un'esperienza fantastica, perché appunto abbiamo avuto la possibilità di lavorare con voi due alla produzione del Campanello e dello Schicchi, nel Campanello di Donizetti ho appunto fatto Don Annibale e Pistacchio, è stata un'esperienza stupenda, poi un paio di personaggi nel Gianni Schicchi e poter lavorare, non so, con un monumento vivente della lirica, cioè è un'occasione che... Voglio dire morente, vai. No, sì. Alla mia età non si può fare anche... Vivente, avevo un'energia che noi alla fine, che avevamo tutti giovani, tutti ragazzi giovani, alla fine della giornata eravamo stanchi, lui invece era ancora pimpante. Anche tu, eh? Sì, sì, si fa quel che si può. No, no, è stata un'esperienza incredibile, perché io penso che per i giovani avere la possibilità di lavorare, credo che sia ormai l'unico caso in cui un giovane possa veramente poter lavorare, vivere da vicino un'esperienza appunto con un grande personaggio della lirica, come Rolando, che mette al servizio, mette la sua conoscenza al servizio dei giovani, è stata un'esperienza fantastica. E poi, devo dire, anche un teatro che è sensibile all'argomento dei giovani, che li vuole aiutare, che li vuole far assumere ruoli importanti. Assolutamente. Io poi da quell'esperienza ho lavorato, praticamente appunto era partito l'ensemble d'opera per poter fare Gianni Schicchi a Campanello, poi alla fine ho partecipato a tutte le produzioni in cartellone della scorsa stagione, e anche quest'anno ho avuto la possibilità di fare Monterone, che è un personaggio che adoro. E che è un personaggio proprio chiave, vero? È un personaggio chiave perché lancia la maledizione, quindi voleva chiamarla la maledizione all'inizio, poi l'ha chiamata Regoletto, quindi insomma è veramente un'esperienza unica. E come hai proiettato il tuo futuro adesso, in questo mondo instabile della lirica? Rolando una volta mi disse, ed è già vent'anni fa, che la cosa che le faceva soffrire di più era preparare i futuri disoccupati della lirica, e questo era già vent'anni fa e ora forse la situazione è peggiorata, no? Però per te personalmente adesso che sta succedendo? Io appunto, sì, dire che sono ottimista no, non lo posso dire, però comunque la prima cosa, indipendentemente da quelle che possono essere le vicissitudini, le avversità ovviamente di questo periodo di crisi che tutti quanti dicono, io credo che sia importante comunque crederci e fare le cose bene, farle bene, come questa produzione ad esempio, tra mille difficoltà, tra mille cose appunto, voglio dire anche problemi economici in cui versano il teatro, ma tutti i teatri in Italia particolarmente, ma non solo, aver fatto un allestimento, aver fatto una, voglio dire, come è stato detto anche in conferenza stampa, da 12 opere tirare fuori queste scene, questo allestimento, fare di necessità virtù, ed è venuto uno spettacolo bellissimo. Ecco, e forse soprattutto con un grande senso di appartenenza, di tutte le persone che hanno partecipato, di coesione, per fare una cosa, comunque è fatta bene ad essere onesti intellettualmente, ad essere onesti con la musica. Ecco, io credo che adesso dobbiamo salutare... Vorrei dire una cosa sola, se mi è possibile, 20 secondi, io ho trovato in Giuseppe Acquaviva, che a un certo punto mi ha detto, senti, ma perché non facciamo un cambiamento a vista? Siccome io avevo già fatto un cambiamento a vista, in un'opera a Torre del Lago... Di cui abbiamo già parlato... Sì, va bene, però è stata una mossa vincente, e sono felice perché la proposta a lui, io l'ho accettato, è andato benissimo. La gente ha apprezzato vedere questa magnifica macchina, che è loro, che è del popolo, del pubblico, della gente dell'opera, non è di qualcun altro, e in questo senso penso che sia anche una tua volontà di aprire questa grande cassa, che è una piazza, e vedere che cosa è dietro il muro della piazza, che è una cosa fantastica, un'altra piazza meravigliosa, pullulante di vita umana, che è il teatro. Ecco, io non ho gli occhiali, quindi io non vedo, perché credo che... Che cosa devo dire? Che siamo già in chiusura. Non avendo gli occhiali, non posso leggere questo magnifico computer che è qui dinanzi. Ecco qui, vedi che è sempre... Mi salva sempre, ecco. che dovrei dire sì, che questo è Fabrizio Beggi, nella parte di Monterone, no? E praticamente... Ah, vediamo tutti questi bei... Vedi questi bei commenti dei blogger, Maestro Panerai, ho diversi su autografi, anche questo di Rigoletto. Mi dica, quando sarà grande, me ne lascerà un altro? e poi ci sono tutta una serie di commenti sul Panerai, mio co-regionale, Viva Maestro Panerai. Lo pensiamo tutti, eh? Lo pensiamo tutti. Ebbè, se riesco a far carriera, ci rivedremo ultimamente. Tanto tornerai per essere in questo teatro già un mese e mezzo, ma intraveata. Grazie. Grazie a voi.